Le buyer persona sono fondamentali per costruire la nostra strategia, soprattutto online. Dobbiamo sapere cosa vogliono le persone, quali sono i pain points, quali sono i problemi che hanno e come li vogliono risolvere, come parlano. Questo è importante, come parlano dei nostri prodotti, come parlano delle soluzioni. Magari utilizzano un linguaggio improprio, ma comune per la buyer persona, che quindi dobbiamo imparare ad utilizzare. Spesso però le buyer persona diventano un esercizio di stile, noto nelle aziende che si creano tantissime buyer persona, tra l'altro artificiali, con pochissima ricerca, che poi mette in difficoltà il reparto marketing, perché dividersi in 8-9 buyer persona significa non avere budget per fare nulla. Io seguo i consigli di Adel Rivella, che è uno dei più grandi esperti sulle buyer persona al mondo, che consiglia di restringere il campo delle buyer persona. Anche quando ci sono tantissimi decision maker in un acquisto, magari di alto livello, dobbiamo sempre considerare due buyer persona fondamentali. La prima buyer persona è l'economic buyer. L'economic buyer decide che la situazione in cui si trova non è più accettabile ed è la persona che può trovare le risorse economiche per procedere con l'acquisto. Quindi è quella che può definire il budget ed è quella che dice ok, adesso basta, bisogna trovare una soluzione. Fantastico! Però l'economic buyer ha bisogno di un altro buyer, il lead evaluator buyer. Lead evaluator buyer è la persona che in effetti avrà più contatto con il tuo brand e con il brand dei tuoi concorrenti. È la persona che farà ricerche, che chiederà informazioni, che scaricherà le tue guide, che magari ti chiamerà per una demo. Il lead evaluator buyer è coinvolto più tardi nel processo. Ha più idee rispetto alla buyer experience, lavora su tutti gli stakeholder nel buyer's journey e valuta tutte le opzioni per le soluzioni. Arriva alla conclusione di chi sia il fornitore migliore, per cui è molto importante. È quella che non paga, di fatto, ma è quella che peserà tantissimo nella scelta. Anzi, spesso è quella che sceglie. Per cui noi dobbiamo comunicare soprattutto a questa persona, dobbiamo identificarla e comunicare a lei, senza dimenticarci dell'economic buyer. Immagina, se tu vendi giocattoli, devi comunicare al bambino, sicuramente, ma devi anche comunicare all'economic buyer. Se il tuo gioco ha dei pezzi, beh, allora devi comunicare anche che quel gioco è sicuro, perché se no l'economic buyer non lo comprerà. Anche se il lead evaluator buyer, il bambino, lo desidera molto. Dobbiamo bilanciare la comunicazione, tenendo in considerazione soprattutto queste due buyer persona, soprattutto perché sono di solito le due buyer persona più importanti. Certo, poi ci sono anche altri stakeholder, ma non possiamo pensare di mantenere 10-15 buyer persona, tra l'altro, per ogni buyer's journey. È troppo difficile e poi soprattutto non avremo le risorse per fare un ottimo lavoro quando creiamo il calendario editoriale e il calendario dei contenuti online.